La pulizia energetica Dopo aver terminato il ritratto, puoi bruciare un incenso, un palo santo o della sabbia bianca intorno a te. Lasciando la bocca socchiusa, scuotiti per alcuni minuti. L'ideale sarebbe fare la meditazione Kundalini di Osho. Questo procedimento serve a ripulire il tuo campo da eventuali uncini energetici. Si possono creare degli attaccamenti con le energie di una persona, soprattutto del passato. Scuotendo il tuo corpo e ripulendo lo spazio intorno a te, la tua aura ritorna ad essere neutra. Ti invito a guardare il ritratto e con un sorriso a pronunciare questa frase. Ti ringrazio del messaggio. Tu sei tu e io sono io. Mi inchino davanti il tuo destino. Ti chiedo di benedirmi e guardarmi con occhi gentili. Hai un posto speciale nel mio cuore. Ti chiedo di benedirmi e guardarmi con occhi gentili. Ti chiedo di benedirmi e guardarmi con occhi gentili. Ti chiedo di benedirmi e guardarmi con occhi gentili. Ti chiedo di benedirmi e guardarmi con occhi gentili. Ti chiedo di benedirmi e guardarmi con occhi gentili.